Vai Majin Vegeta di terzo livello! Devasta Goku! Fidatevi, ci divertiremo un botto e guardate sto Majin Vegeta! L'avete visto, raga, quanto era figo! Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Xenoverse 2 per un nuovo incredibile What If. Cosa sono i What If? Sono storie alternative di Dragon Ball Z, di Dragon Ball Super, create direttamente da me. Infatti il protagonista di oggi sarà addirittura Majin Vegeta, ma non si sacrificherà mai per tentare di eliminare Majin Buu. Quali saranno le conseguenze? Vegeta resterà per sempre malvagio? Scopriamolo! Ed eccoci qua, finalmente ci siamo! Il protagonista è lui, Vegeta che sembra un normalissimo Vegeta, ma ragazzi c'è qualcosa di strano. Notate le abilità, notate la trasformazione, c'è scritto Become Majin. Per chi non lo sapesse vuol dire diventa Majin, quindi diventa malvagio. C'è proprio la trasformazione per farsi controllare da Babidi. Io vi svelo un piccolo segreto, se superiamo i 5000 like a questo video, nei prossimi giorni arriverà l'episodio in cui Majin Vegeta sarà anche in Dragon Ball GT. Quindi tocca a voi! Se volete che la storia continui con un secondo episodio, spolliciate al massimo. Vi faccio notare che c'è anche un personaggio di fianco a Bados lì sulla destra. Credo che abbiate già capito, però non voglio farvi troppi spoiler. Io ragazzi mi vado a scegliere questo Vegeta che può diventare Majin tramite una trasformazione e andrà a sfidare Gohan adulto, il figlio di Goku. Ma per quale motivo ragazzi? Andiamo a scoprirlo, andiamo all'aria desertica. Vi ricordo che tutta questa cosa è ambientata quando Goku, Vegeta, il Kaioshin e anche chiaramente Gohan sono alla navicella, quella lì in cui ci sarà il risveglio di Majin Buu. Però ragazzi, quale cose stanno per andare diversamente? Infatti, Majin Buu non verrà mai risvegliato. Avete capito bene ragazzi? Il vero nemico della saga di Majin Buu in questo universo sarà Majin Vegeta. Quindi possiamo chiamarla saga di Majin Vegeta e non saga di Majin Buu. Questo sarà il primo grandissimo cambiamento. Ma perché sta sfidando Gohan? Vi ricordo ragazzi che quando ci sono gli scontri tra, appunto, Goku e il demone richiamato dal magico Mago Babidi e poi tra Vegeta e il suo nemico e Gohan il nemico, nello scontro tra Gohan e il suo nemico, Gohan sembra essersi davvero rammollito. E c'è Vegeta che gli dice, se non ti impegni io ti ucciderò con le mie mani. Beh ragazzi, in questo universo è quello che sta per succedere. Vegeta, davvero sentitosi vergognato da vedere un Saiyan ormai così debole, che era diventato fortissimo durante la saga quella di Cell, si incazza un botto e quindi ragazzi miei esplode. Ora vedrete la sua esplosione perché guardatelo, sta impazzendo e diventa Majin Vegeta. Ragazzi, Vegeta si fa controllare quindi dal Mago Babidi e ora sono cavoli per tutti, per non dire qualcosa di un po' più volgare. Il primo attacco sarà un attacco Bing Bang devastante, mamma mia raga. Schiatto del meteorite inutile perché il nemico purtroppo è lontano e Gohan come vedete sta andando in grande difficoltà. Vado col mio cannone Galic ma non riesco a colpirlo. E ora ragazzi miei andiamo di cattiveria verso di lui. Chiaramente Goku e Gohan non si aspettavano questo tipo di reazione da Vegeta. Però ragazzi, in questo universo alternativo il Vegeta che stiamo vedendo è molto più malvagio. In realtà ha assorbito vero e grande rancore nei confronti di Goku. Non è mai riuscito davvero a perdonarlo o comunque a prenderla un po' più sul, come dire, sulla competizione. Lui qua si è sentito proprio denigrato sul serio. Io quindi proverei ad andare chiaramente con un bel lampo finale! Mamma mia ragazzi che mica su un botto! E purtroppo Gohan qui viene ucciso. Ragazzi, Gohan viene eliminato da Majin Vegeta. Goku quindi vede morire sotto i propri occhi suo figlio ed è qualcosa di inaccettabile. Quindi ragazzi miei, ecco qui che finalmente ci sarà uno scontro che forse aspettavate da tempo. Mi vado a scegliere Majin Vegeta di già trasformato e andiamo a sfidare Goku in una delle sue forme. Chiaramente quella lì che può trasformarsi magari in Super Saiyan di secondo livello. E vorrei sceglierne una bella tosta. Credo che questa qui possa andare, anche se ha l'Aureola. Adesso non ricordo se Goku aveva di già l'Aureola, ma mi pare di sì. Ad ogni modo io vado a scegliere questo qua, dai. Ragazzi sono davvero molto molto carico perché quello che sta per succedere è qualcosa di completamente inaspettato. Infatti Vegeta avrà una nuova trasformazione. O forse dovrei dire Majin Vegeta. Ragazzi preparatevi, preparatevi davvero. Ed eccolo qua, incazzatissimo con le vere lì assurde. Spero davvero che Goku si trasformerà perché non voglio che faccia una brutta figura. E io adesso vi faccio notare una cosa. Vedete questo Majin Vegeta? Ha un ulteriore potenziale. Oltre al fatto che ha una vita lunghissima. Ragazzi guardate la barra. Una metà è quella lì bianca, no? Quella lì normale quando non vieni mai colpito. Però l'altra metà è di un colore sul blu celeste. Non lo so, sul daltonico ragazzi. Guardate la vita ora. Mi ha colpito ma guardate di che colore è. Vuol dire che sto Majin Vegeta ha una vita lunghissima. Quindi ragazzi, io vado prima con un canone Galick. E no, si difende ogni volta. Assurdo. No ragazzi, si gira di continuo. Però mi fa un attacco, almeno per come l'ha posto lui, inutile. Quindi ragazzi si va. Andiamo a fare anche uno stamina break. Assurdo, si è teletrasportato. Ragazzi, si vede che Goku è furioso per la morte di suo figlio. Io quindi provo a fare magari un'esplosione atomica. Una delle mosse più fighe di Majin Vegeta. Vediamo se lui si avvicina in tempo record. Vai adesso. No, Majin Vegeta che mi hai combinato. Mi fai stare male se non attacchi. Vai. Non l'ho colpito, ragazzi. Fai teletrasporti. Assurdo. Mi allontana. Non ci credo. Ragazzi, Goku è irreparabile. Non si ferma. Andiamo quindi con un canone Galick. Riesco a colpirlo. Andiamo anche con un canone attacco, Big Bang. E niente da fare. Si sposta. E ragazzi, cosa avreste fatto voi del vedere magari un vostro figlio morire così? Ucciso da un Saiyan che voi credevate addirittura un vostro amico. O se non un amico, almeno un alleato. Vai. Un altro attacco, Big Bang. Ma mi ferma con una Kamehameha. Vai. Vegeta. Attaccalo. Niente da fare. Si parla di continuo. Si sposta. Cose di questo tipo. Quindi, ragazzi, si va. Ormai il potere di Vegeta cresce sempre di più. E preparatevi. Guardate questa trasformazione. Forse voi non l'avete notata perché c'era davanti la mia facecam. Non lo so se l'ho spostata magari in quel fragente. Ma Vegeta è diventato oscuro. Quasi come se fosse controllato da Demigra. Anche se, ve lo dico da ora, non c'è in questo motif. È proprio diventato più potente grazie al potere che gli ha concesso Babidi. Quindi, ragazzi, è diventato cattivissimo, furioso. Ed ora la sta per fare. L'esplosione finale. No, non ci credo. Mi ha fermato. Non ci credo, ragazzi. Mi sposta. Mio caro Majin Vegeta. È arrivato il momento. Esplosione finale. Devasta Goku. Cedilo. Conclusione. Mamma mia, ragazzi, che conclusione abbiamo fatto. Qua non ci credo. È stato assurdo. Ma, ragazzi, Goku non è morto. Anche Vegeta rivela il suo vero potere. Ed ecco a voi, Majin Vegeta, Super Saiyan di terzo livello. Ragazzi, guardatelo. Il sogno di tutti noi. Puoi vedere un Vegeta, Super Saiyan di terzo livello, unito al potere dei Majin. Io non so cos'altro aggiungere. Se non, guardatelo. E ditemi se non è uno dei personaggi più fighi di sempre in assoluto. Le mosse sono le seguenti. Abbiamo il lampo finale. E anche l'esplosione finale. Ragazzi, non ci resta che sceglierlo. E andiamo ad affrontare Goku. Spero che durante lo scontro si trasformi in Super Saiyan di terzo livello. Altrimenti ci resterò davvero malissimo. Quindi me lo vado a scegliere magari, non so, in questa forma qui, come prima. Driggiamoci alle montagne in modo tale da andare a ripercorrere quello che è stato il primo scontro tra i due. Se notate quando Vegeta aveva ancora lo scooter ed era arrivato per la prima volta sulla Terra. Ed ecco lo scontro più epico di sempre. Ci divertiremo, ragazzi. Fidatevi, ci divertiremo un botto. E guardate sto Majin Vegeta! L'avete visto, ragazzi, quanto era figo! Un Super Saiyan di terzo livello potentissimo. E ci siamo, ragazzi miei. Andiamo a fare una bella carica massima. Anche se, ragazzi, sto Goku è scatenato, eh. Si sta infuriando davvero. E io ve lo ripeto. Ho già una storia bellissima e potentissima per Dragon Ball GT con Majin Vegeta. Perché vi dico una cosa. Majin Vegeta, se sarà in Dragon Ball GT, avrà magari anche un'altra trasformazione. Ragazzi, lo volete vedere un Majin Vegeta Super Saiyan di un livello superiore? Credo proprio di sì. Quindi, oh, dovete spolliciare. Fatevi sentire. Nel frattempo Goku ci sta malmenando. Devo essere sincero. Stavo parlando e quindi mi sono fatto picchiare. Mi è arrivato il momento di farsi sentire. Vai con l'esplosione atomica. Beccato in faccia! Mamma mia, ragazzi, troppo figo. Majin Vegeta Super Saiyan di terzo livello. Ci siamo girati anche giusto in tempo. Bene, così andiamo con l'impeto di rompente. Pensavo volessi attaccare, invece no. Vai, vai, mio caro Goku. Attaccami. Vai così. Boom! Guarda quanti bei attacchi. E non l'ho beccato. Con l'ultimo no. Andiamo con l'attacco Bing Bang. Colpito in pieno, ma lui mi allontana. Quindi, in parte, devo dire che sei anche difeso bene. Vai adesso, vai adesso. Volevo fargli uno Stamina Break, ma purtroppo non ci siamo riusciti. E sto notando che Goku non si sta trasformando in Super Saiyan di terzo livello. È una cosa che mi dispiace un botto. Però, in certi versi, potrebbe comunque essere spiegabile. Perché vuol dire che Machine Vegeta di terzo livello non gli sta nemmeno permettendo un po' di esprimere davvero il suo potere. Ad ogni modo, noi siamo qui. Se si vuole trasformare, siamo contenti. Mettiamola così. Allora, direi davvero di esprimere anche un altro po' del vero potere di Machine Vegeta. E BOOM! Quanti schiaffi che ti stai prendendo, Goku. Questo vuol dire che potresti morire nel momento in cui tu decidessi di non esprimere il tuo vero potere da Super Saiyan di terzo livello. Quindi, ragazzi, secondo voi si trasformerà oppure no? Non si trasforma! Fa la Kamehameha teletrasporto! Sciocco! Ormai Goku sembra essere in difficoltà. Anche noi, devo ammettere, che abbiamo preso grandissimi schiaffi e purtroppo non si decide a trasformarsi. Un gran peccato perché mi aspettavo fosse un bel po' più reattivo. Quindi un'intelligenza artificiale molto scarsa in questo scontro. Io, ragazzi, vado con il lampo finale con un Vegeta Super Saiyan di terzo livello, Majin. E noi abbiamo fatto nulla. Ragazzi, praticamente si è difeso subito. Non so come sia possibile, ma io andrei con l'esplosione finale. Vai, Majin Vegeta di terzo livello! Devasta Goku! E non ci credo. È ancora vivo! No, ragazzi, non posso crederci. Allora vado con il lampo finale. Vai, Majin Vegeta di terzo livello! Non ci credo, gliel'abbiamo distrutto il vigore! L'abbiamo devastato e questa credo sia stata una delle conclusioni più assurde di sempre. Mamma mia, ragazzi, devo riprendermi. Majin Vegeta di terzo livello ha quindi ucciso Goku e Gohan. Adesso cosa succederà? Beh, ragazzi, se superiamo i 5000 like vedremo Majin Vegeta con una nuova trasformazione in Dragon Ball GT. Mi piacerebbe davvero tanto fare il prossimo episodio per Majin Vegeta, quindi fatevi sentire al massimo. Iscrivetevi ora al canale cliccando qui appunto nella zona centrale e guardate altri video presenti sul mio canale cliccando sulle due miniature che vedete ora a destra e sinistra. Quindi alla prossima, ciao! Ciao!